Musica Siamo dal BHS, c'è un'emergenza in corso. Perfetto, grazie, invio la squadra di emergenza. Avrei bisogno di due detti emergenze all'interno del BHS per un pacco che è stato segnalato, rotto. Mi sono rotto la caviglia. Andate tranquilli ragazzi, stanno arrivando qui. Un forte problema, un forte dolore al petto. Una sostanza che si è sbocciata da un metro. Mentre per la persona è inconsciente, ci stiamo attrezzando con le barelle per entrare a prenderla. Perfetto, grazie, invio la squadra. Grazie. Grazie.